scherzi del mercato non è la prima volta che accade non sarà l'ultima sul più bello il foggio ha visto sfumare quello che da mesi era ormai un obiettivo per la sua porta ovvero l'estremo difensore tommaso nobile fino a poche settimane fa saracinesca della virtus francavilla bene nel giorno in cui nobile era atteso per la firma sul contratto ecco lo scherzetto il portiere cambia idea e imbocca l'autostrada in direzione rimini legandosi al club romagnolo cosa che ha mandato il presidente canonico su tutte le furie anche perché sembrerebbe che nella stessa giornata di ieri l'entourage del calciatore avesse confermato l'appuntamento per le firme sul contratto per la porta invece occorrerà cambiare obiettivo al momento il mercato del foggia resta in attesa di decollo l'unica operazione definita è quella di giuseppe nicolao il terzino in scadenza lo scorso 30 giugno ha rinnovato per altre due stagioni nella casella delle partenze invece oltre a chi è andato via per scadenza naturale del contratto per fine prestito l'unica operazione registrata è quella relativa alla rescissione consensuale con il centrocampista rocca dunque mercato al momento fermo con la società che forse anche per questo ha inteso far slittare il lancio della campagna abbonamenti domani doveva essere il giorno della presentazione che slitterà probabilmente di una decina di giorni forse meno nel frattempo il club è anche alla ricerca di una sede in città destinata ad ospitare gli uffici della società rossonera si stanno valutando una serie di alternative ma la soluzione non dovrebbe essere lontana con lo zaccheria che dopo l'intenzione di non aderire alle richieste del comune di foggia circa la concessione sarà utilizzato solo in occasione delle gare ufficiali sarà a mendola invece il quartier generale dei rossoneri infine sulle pagine social del club e garattoni questa volta a dare l'appuntamento a tutti per il ritiro precampionato che comincerà il 22 di luglio nei pressi di tarvisio in friuli saluto a tutti i tifosi ci vediamo in ritiro